Grazie per la domanda anche a lei. Ma io guardi, proprio alla luce del grave discredito in cui stanno precipitando le istituzioni ed è fatto che la politica rischia di dare dei segnali negativi ai cittadini, ho lanciato questo messaggio, che nella tradizione del movimento, ma vorrei che fosse condiviso anche da tutti quanti, anche dagli altri leader e dalle altre forze politiche. Noi non possiamo continuare a ingannare i cittadini con i nostri comportamenti. Cioè, io dico, se tu vuoi fare affari, te ne stai a casa, dimostra di stare sul mercato ma non avvantaggiarti, abbiamo detto questo è il significato di questo nostro incontro, non ti devi avvantaggiare dell'incarico pubblico, giusto? Non puoi chiedere ai cittadini, votatemi, chiedi tutti gli eroi i vostri interessi e poi vai a fare gli interessi tuoi personali. Allo stesso modo, tu non puoi dire ai cittadini, datemi il voto, io mi candido, trovate Conte su tutte le liste, e poi Conte già sa, è consapevole che vi sta prendendo in giro, perché Conte nel Parlamento Europeo non ci potrà andare, perché sono già deputato, sono presidente del Movimento 5 Stelle e quindi non è un compito che posso assolvere. E allora perché devo dire ai cittadini far trovare il cognome Conte illudendoli, perché tanti si illuderebbero, perché non tutti semmai poi seguono bene la politica, qualcuno si potrebbe illudere che sta votando veramente Conte che andrà al Parlamento Europeo. Allora lei capisce che si rompe quel meccanismo di fiducia, di trasparenza, per cui io chiedo un voto e mi impegno ad assolvere, ad espletare il mandato secondo le indicazioni elettorali. Allora gli altri leader dovrebbero avere l'accortezza di fare altrettanto. La politica deve imparare una volta per tutte a non prendere in giro i cittadini. A me non importa nulla, anche a me internamente c'è un dibattito. C'è chi può dire che in questo momento lo 0,5, che un per cento in più, due per cento, non mi importa nulla. Non voglio manco stare lì a poter quantificare, semmai una mia presenza, ma per la riconoscibilità che in questo momento ho, possa essere di vantaggio per il movimento. A me uno, due, tre, cinque punti in più. Non ci importa nulla se il prezzo deve contribuire al discredito delle istituzioni. Non ci sarò in quelle liste. E mi auguro che gli altri leader non ci siano.